Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Gard che la dedica a Nola e vuole che parli del film del 2010 di Robert Rodriguez Macete con il grandissimo Danny Trejo come protagonista. Macete è un film del quale ho già parlato per me, è una vera trashata ma gigantesca perché in realtà è grande cinema, volutamente trash in alcuni punti e volutamente sopra le righe per raccontarla una storia interessante e soprattutto piena in sottotesti politici ma nemmeno so troppo sotto. Insomma la storia di questo Macete Cortez che praticamente sta seguendo degli ordini da parte del suo capo quando scopre appunto che questo rapimento a cui si è commesso diato è tutta una finzione, il capo è insieme ad un mafioso ovvero Rogheglio Torres e quindi una volta che ha visto che Macete l'ha sgamati gli fa ammazzare tutta la famiglia e poi gli spara anche a Macete, gli ammazza anche Macete ma Macete chiaramente non muore. Passa del tempo e il nostro Macete viene messo di mezzo da Butte praticamente che lo ricatta e gli decide di fare questo omicidio per me di questo senatore che vuol far diventare messicani ancora più crudeli alla vista degli americani e vuol costruire un muro elettrificato e tutto il resto. Invece tutto è un inganno in realtà per fare proprio il contrario appunto per dare la possibilità a questo di poter costruire questo muro e fare del Messico tutto ciò che vuole. Macete non ci sta e decide di rifarsi contro appunto chi gli ha ucciso la famiglia e contro ancora tutti i cattivoni che vengono a giro e che sono interpretati da Steven Seagal, Don Jones e via dicendo. Allora secondo me Macete è un film fantastico che nasce appunto come finto trailer dei Grand House ma in realtà è una cosa che il nostro Rodriguez voleva fare e Rodriguez la fa, fa questa cosa su sua sceneggiatura e riesce a colpire dall'inizio alla fine. Sin dal suo incipit fantastico sì poi il mitico Don Johnson è razzistissimo che veramente in quella scena è terribile anche lui, è crudelissimo, un film che mostra appunto la mancanza di umanità verso gli immigrati, verso chi cerca una casa per poter vivere e lavorare. È un film cattivissimo sotto questo punto di vista, chiaramente pieno di sangue, chiaramente pieno di un'ironia degna appunto del miglior Rodriguez. Questo è uno dei suoi maggiori film, secondo me è una bomba, proprio riesce ad essere cattivissimo, la scena meravigliosa in cui fa sesso con la moglie e la figlia e poi gli manda anche il filmato e gli chiare tutto. Insomma è un film che si sposta veramente oltre, macete e macete, c'è poco da dire. Poi questo film riesce proprio ad andare alla stragrande perché riesce a prendere proprio nella storia, nei personaggi, riesce a farci entrare dentro uno spirito così divertente da spettatore per raccontarci una cosa così importante come l'immigrazione, come un certo tipo di razzismo, come la mancanza di umanità, permi il genere umano, specialmente quello ricco sfondato, ma lo fa con la semplicità di un film che arriverà sicuramente più del classico discorsino di due in una stanza che poi convince i già convinti. Qui invece il grande macete secondo me è proprio un classico film d'avventura, d'azione, pieno zeppo di intelligenza e pieno zeppo appunto di tutti questi messaggi che vengono veicolati attraverso un personaggio geniale, poco geniale perché macete è amato dalle donne, macete fa tutto, macete sa fa tutto, macete è Dio, macete è un grandissimo film, macete kills il secondo non vale la metà di questo film, però è sempre divertente anche se avrei voluto vedere macete on the space, il terzo, ma sperando che lo faccia prima o poi Rodriguez dopo Alita 2 se lo fa davvero, ma detto questo, questo è macete per me è un caltone di velli giganteschi, un caltone veramente assoluto dove, ripeto, la violenza viene un po' smaltita, ecco, dall'ironia, ma un ironia che ripeto comunque colpisce sempre nel segno perché anche nel personaggio fantastico di Michelle Rodriguez nella Shea appunto, che risuona come Shea, che è la nostra rivoluzionaria, è veramente enorme, così come sono fantastico il personaggio anche di Jessica Alba per come viene ribaltato durante la storia questa gente dell'FBI che deve catturare macete, tutto il film poi funziona proprio perché si nota che chi ci sta lavorando si sta divertendo ma vuole anche mandare appunto il messaggio che sta uscendo dal film stesso, quindi per me è un film veramente di quelli da non perdere, con i cast del grande Nimrod D'Antal e Tom Savini, insomma, è un film che secondo me funziona benissimo, con le musiche di Singon veramente eccezionali, con un montaggio dello stesso Rodriguez che vola altissimo, oltre, ripeto, a tutti gli attori che sono veramente in grande forma, per me questo è un calta assoluto, uno dei film più divertenti degli ultimi vent'anni, un'epopea assoluta, epicissima, nella sua stoltezza che diventa però grande cinema e grande racconto perché sotto questa patina di volerci divertire, di volerci dare spettacolo in realtà Rodriguez ci vuole dare anche tutto quello che pensa appunto sull'immigrazione dal Messico in su e su appunto la distruzione di un certo tipo di cultura e di pensiero americano che in realtà viene sempre portato avanti da altri film e che lui insomma cerca di deflagrare anche attraverso, come ho detto, personaggi femminili fortissimi come quello di Jessica Alba e della nostra scena che sono uno più bello dell'altro, quindi che vi posso dire di più? Il link è qua sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sopra c'è il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, Facebook e Instagram, sapete che cazzo faccio a giro per l'Italia e poi che cosa vi posso dire di più? Per me Macete è un acquisto obbligato, uno dei film d'azione più folli e deliranti negli anni 2000 però con grande senso estetico, sì, con grande voglia di essere tamarro, con grande violenza con tanto pulp ma anche tante cose da dire e quindi per me un film assolutamente da non perdere